No, no, se siamo alla fine, mi diamo gli adalanti adesso, ma no, no, stacco il tavolo e lo vanno. Sì, ma non tutte e due, eh, una alla volta, signori, grazie. Prego. No, loro vanno in due, perché è divertente in due, no? Mannaggia a voi. Se venisse anche l'altro a caccarli, se mi farebbe piacere, grandissimo, attacca uno, No, ti è attaccolato, grazie. Tu puoi calmare, non mi vuole signorina? Ma si può calmare, per favore? No, 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 non sull'acqua. Vuoi tenere lo scudo, te? Sì, 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 panino, 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 panino. Ma se vai col segnal, ma la bollo molto fino al dicembre 2024. 2024, sticassi. Cyberpunk 2077. Mamma! Dopo 70 anni, è dopo 70 anni. Pietro Misuti! Nel frattempo, mio fuggino in America, Cyberpunk 2088. Io ci devo morire, ma mori, grazie. Sì, ciao, mi ha mai chiamato. Via, via noi. No, Pippi, no. No, 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 no. Mi puoi tenere un attimo impegnato la mia moglie? Ecco, bravo. Eh, lo so, lo so, lo so. No, la mia ex. È la tua ex, è vero. È vero. Oh, baffa. Ma è bello che la sto attaccando io sta... Potresti attaccare un po' di ora. Ehm... 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 Sì, 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 sì. Guardi, sì, 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 ma evidentemente va. Sì, sì, sì. Ti puoi curare? Con cuore esso, sì. Allora fai... L'ho, 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 l'ho. Fermo? Fermo? Ehm... Gnack? Fai... Quanto me? Hai quanto me? In poche parole. No, ferma, ferma, signorina. Ma tanto se ce l'ha con me la puttana. Ehm... Buongiorno. Pietro, per favore, fai qualcosa. No, no, no. Pietro, io c'ho... Un decotto di Sig. Se me lo fai bene... Eh, se lo devo... Lo lo trovo, lo devo trovare. Ok. Ok, lo ho trovato. RIPPEI! All right, you get dancing about. Hai mia boiii! No! Ok? Ai, ai, ti ho fatto altri... Sì! Evviva! Mi ho trovata una migliore puttana! Come è morta! Evviva! Evviva! Questa sì che è un gioco di squadra forte! Sì, ora tocca a me. Non come io! Evviva! Evviva! C'è la mia papà. Sì, bene, ma... Però tocca a me. So, devo rispondere il mio cuore. Se lo stanno fanno fosso. Ai, alcolino va di cascata. Acqua di sale. Dovrebbe. Cialo sto Russo! Cialo sto Russo! Sì! Aaaaa! 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 Grazie.